Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli Il figlio dell'uomo deve soffrire molto Essere rifiutato dagli anziani Dai capi dei sacerdoti e dagli scrivi Venire ucciso e risorgere il terzo giorno Poi diceva a tutti Se qualcuno vuole venire dietro a me Rinneghi se stesso Prenda la sua croce ogni giorno e mi segua Chi vuole salvare la propria vita la perderà Ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà Infatti quale vantaggio ha un uomo Che guadagna il mondo intero Ma perde o rovina se stesso Parola del Signore Il figlio dell'uomo deve soffrire molto Questa frase presa la lettera descrive la condizione Che caratterizza ogni uomo Infatti potrebbe essere tradotta come L'essere umano è destinato a soffrire molto In questo passaggio infatti Gesù fa proprio L'esperienza di ogni uomo Che anela da non senso A quanto sperimenta nella propria umanità Anche semplicemente Partendo dalla irrealizzabilità Dei legittimi desideri e aspirazioni Che vanno poi a scontrarsi con un destino avverso Che li infrangi o semplicemente li minaccia Questa situazione è quella descritta da questa frase Se leggiamo la parola Dei Che troviamo nel testo originale Traducendola con parole come È necessario È destino È secondo il fado In un universo dove la divinità Ha un atteggiamento neutro nei confronti dell'uomo Questo è quello che accade nel mondo greco Dove anche gli dèi dell'Olimpo Sottostavano la dea senza volto Ananche La dea della necessità A cui gli uomini nemmeno rivolgevano preghiere Ma Se guardiamo bene È anche il mondo tipico dell'uomo di oggi Visto che è lui Che vuol fare a meno di Dio E quindi Pensa e ragiona Senza prenderlo nemmeno in considerazione E questa volta È l'uomo ad avere un atteggiamento neutro Nei confronti di Dio Ma quello della Bibbia è un universo In cui la divinità è un Dio provvidente Cioè che ha cura di tutte le sue creature E in particolare dell'uomo Pertanto Usare espressioni come Necessità o destino Non rimandano al caso Ma sono in funzione di un disegno Magari misterioso Ma che ha un fine rapportato ad un bene più grande È la logica della croce Che mantiene in tensione un mistero Che si rivelerà solo dopo tre giorni Con la risurrezione di Gesù Ma che a sua volta rimanda ad un mistero più grande Visto che riusciamo a comprendere bene L'idea dell'ammortalità dell'anima Cioè la nostra sopravvivenza alla morte Ma come questa poi si attui All'interno della risurrezione della carne È un mistero Che ha fatto sempre balbattare Qualunque teologo La nostra vita è dunque caratterizzata Dal mistero dei tre giorni di buio Seguiti alla morte di Gesù Dove Dopo aver sperimentato la violenza E la sofferenza della croce Siamo ancora in attesa di capirne il senso E di vedere la luce della Pasqua L'abbandono fiducioso alla volontà del Padre È la modalità che Gesù ci ha insegnato Per abitare questo nostro tempo